E nel frattempo i giovani sembrano strizzare sempre di più l'occhio al settore agricolo. Sono i giovani i protagonisti dell'agricoltura toscana del futuro. Non è una frase retorica ma il dato che scaturisce dall'ultimo bando della regione relativo al pacchetto giovani in agricoltura. Al bando, che ha previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro, sono arrivate 1761 domande di giovani che intendono avviare un'impresa in agricoltura. Il dato è stato comunicato dall'assessore all'agricoltura della regione, Marco Remaschi. Le domande arrivate per il pacchetto giovani in agricoltura del 2015, il cui bando è stato chiuso il 16 novembre scorso, ha detto Remaschi, sono un numero eccezionale. Sono circa il triplo di quelle giunte per l'ultimo bando emesso dalla regione nella precedente programmazione. All'ultimo bando, risalente al 2012, giunsero infatti 634 domande, un numero che era già stato giudicato straordinario. Oggi, ha continuato Remaschi, registriamo un nuovo e promettente clima attorno all'agricoltura. La risposta che arriva dai giovani e che denota grande entusiasmo e voglia di investire, di mettersi in gioco, ci riempie di soddisfazione, di buone prospettive per il futuro, anche sotto il profilo del ricambio generazionale.